In tutte le storie di imprese, arriva il tempo di scoprire chi sono gli uomini che le hanno rese possibili, come nasce, come si costituisce e come si organizza una società di costruzioni. Quante professioni e quante mani esperte si intrecciano dietro ad un progetto chiamato Casa. Diego Roncato, capo cantiere, classe 1982. Incontriamo Diego sull'uscio di casa. Ciao ragazzi, andiamo? Diego lavora da nove anni nell'azienda Ediletm. Insieme a lui facciamo il tragitto fino all'arrivo al capannone. Qui, come ogni mattina, saluta i colleghi. Eccoci arrivati. Adesso andiamo a prendere la roba che ci serve per la giornata. Si confronta con il suo datore di lavoro. E prima di partire controlla di avere tutto il materiale necessario per il giorno. Mentre aspettiamo l'arrivo di un collega, Diego ci racconta il suo percorso lavorativo. 12 anni. Un anno che faccio il capocantiere comunque. E anche di come passa il tempo libero. Io ballo salsa e merenghe. Non è che sia un campione, ma insomma, qualcosina me la cavo. Sono medio ballerino, diciamo. Il collega è arrivato. Circa un anno fa il titolare, il signor Marco, mi ha dato questa opportunità di prendere una squadra. Io ho accettato, sapendo anche a cosa andavo incontro, alle responsabilità, alle preoccupazioni, però anche alla soddisfazione in più rispetto a prima. Le competenze sono premiate. Diego è consapevole che c'è sempre da imparare. Ma quello che lo stimola di più è sapere affrontare le situazioni inaspettate. L'imprevisto c'è sempre. Non dico tutti i giorni, ma quasi. So di sbagliare qualche misura, di sbagliare qualcosa, di dover cambiare qualcosa al volo in fretta e furia. Poi io mi sento ancora apprendista al capocantiere. Non è che è ancora presto. Ci sono quelli più vecchi che forse hanno più esperienza. Anche perché adesso mi trovo di fronte a un restauro di una vecchia villa. E' la prima volta che mi trovo ad affrontare un restauro. Anche prima, mentre ero in squadra, non ne ho mai fatto uno. Per cui non so neanche io bene come muovermi a volte. Mentre ci dirigiamo al cantiere, Diego ci fa capire che è impegnativo non solo costruire, ma anche demolire. Quella casa restano su solo i muri esterni. Il resto va tutto svuotato perché viene cambiato proprio tutto dentro. Questa era una vecchia villa dove ci abitavano. Adesso diventano uffici. Prima di giungere a destinazione, una pausa a caffè è quello che ci vuole. Diego, dopo essersi cambiato, ci fa vedere la villa e ci spiega le varie fasi lavorative in atto. Adesso siamo sopra che stiamo demolendo. Poi vi porto e dopo oggi arriva lo scavatore che dovremo continuare a consolidare le fondazioni interne. Questa è la villa e dobbiamo praticamente svuotarla e tenere in piedi soltanto i muri esterni. Vengono fatti solai nuovi, pilastri nuovi, scale nuove perché viene cambiato proprio tutto quanto l'interno. Diego dà istruzioni ai suoi uomini. Ognuno ha ben chiaro il proprio compito. Diego sta lavorando insieme allo scavatore al piano terra. Durante il lavoro riusciamo a carpirgli altre sue abitudini. Vado anche a fare, adesso con la bella stagione, vado a fare anche bei giri in bicicletta con la mia donna. Ha delle belle passeggiate in mezzo alla natura. Poi dipende, sto anche a casa, non mi riposo. Fino a due anni fa facevo ogni domenica 80-90 km in montanballo. Adesso un po' meno. Ho meno tempo, poi ho anche meno voglia. Diego è soddisfatto di lavorare in TM perché è un'azienda molto attenta alla salvaguardia dell'ambiente. L'ATM sta prendendo una certificazione ambientale. Vengono a vedere se i rifiuti sono opportunamente divisi, se facciamo la raccolta differenziata e se è tutto in ordine. Sono sempre trovato bene, anche se all'inizio ero giovanissimo. È stato un po' duro inserirmi, però poi pian pianino ce l'abbiamo fatta. Adesso sono pienamente inserito in questo contesto lavorativo. Intanto al secondo piano continua la demolizione e la raccolta dei calcinacci, secondo le direttive del caposquadra. Il giorno prima gli spiego in breve cosa facciamo, dopo al mattino do le soluzioni precise. Diego è all'opera e gli chiediamo cosa sta facendo nello specifico. Un pilastro, perché questo muro resta e dobbiamo consolidare le fondazioni con i relativi pilastri. Farò un po' di polvere, non so se ti conviene. Dimmi. No, sia il solaio sotto perché dopo il solaio vado ammolito quello là. Ma hai capito fino a dove? Non vai a demolire gli esterni? No, che non vai a demolire le perimetrale? Diego ha sempre la situazione sotto controllo, aiutato dai disegni che consulta regolarmente. Questa porta devo demolire perché nasce un pilastro nuovo. Qui l'ho scritto. E devo demolire questo pezzo di muro. Però prima bisogna opportunamente puntellare, altrimenti... Però la tutta noi siamo sotto e non voglio che questo accada. Capiamo fin da subito che Diego è un lavoratore preciso. Scarica, magari lo metti là in parte e poi lo puoi spostare. Ora lasciamo Diego al suo lavoro. Capito. Capito. Siamo stati in compagnia di un ragazzo giovane ma con gli obiettivi ben chiari, volenteroso di dare il suo contributo ad un'azienda che gli ha dato la possibilità di realizzarsi. Abbiamo conosciuto meglio un uomo spensierato nella vita privata, ma vigile e preciso nel suo lavoro. Ciao ragazzi, tornate a trovarmi, alla prossima. Speriamo che qualcuno mi noti per un futuro come attore nel mondo dello spettacolo. Non sta a ridere. Beh, sono a scoglio. Così è un spettacolo, bello a vedere. Beh, magari le parti in dialetto poi le tagli, insomma... Grazie a tutti.